Ho bisogno di visualizzare sempre quello che dico, quello che faccio. Ho partecipato a due corsi di teatro d'impresa. Per il primo corso mi viene in mente una cassetta di attrezzi. Io sento di avere degli attrezzi e con il primo corso di teatro d'impresa sento che era stata data l'opportunità di poter mettere in ordine questi attrezzi. Adesso nel mio lavoro ho la possibilità di scegliere, di aprire questa cassetta di attrezzi e scegliere uno piuttosto che l'altro. Nel secondo corso di teatro d'impresa invece mi visualizzo e mi immagino dentro una cabina di un aereo. Mi siedo sulla poltrona, mi sciolgo un attimo il nodo della cravatta e mi trovo di fronte a una quantità di strumenti, di strumentazione, di interruttori dove sono consapevole di ogni introduttore al quale funzionerà. Questo è il significato e questo è stato il valore del secondo corso di teatro d'impresa. Per cui mi ha dato valore alla mia attività e ne sto beneficiando di questo aiuto, di questo supporto. Mi hanno messo in luce quelle che sono le mie caratteristiche, i miei doti e adesso so quali caratteristiche, quale strumento usare in qualsiasi momento.